Era una delle zone più suggestive della città, ora a far da padrone è il degrado. La caratteristica passeggiata sul lungo fiume, tra i due ponti di Lecco, è stata completamente abbandonata. Uno dopo l'altro le attività del complesso alle spalle dell'hotel Ponte Vecchio hanno chiuso. C'erano un bar, un centro danza, due centri estetici, un negozio di vestiti, ora è tutto vuoto. Nel 2013 anche l'ImpDap, assorbito dall'Imps, ha lasciato i suoi uffici con vista sull'Adda. Tra quelle vetrine, tra rifiuti e sporcizia, adesso si riparano e ci dormono i senza tetto. I City Angels, per tenere monitorata la situazione, hanno incluso il lungo fiume nei loro pattugliamenti. La situazione di degrado si vede alla mia spalla. Purtroppo ci sono persone che vengono a dormire qua di notte, che non sanno dove andare, lasciano sporco, lasciano immondizia. Noi cerchiamo nei nostri turni di passare come deterrenza, vedere se hanno bisogno di qualche cosa, ma soprattutto controllare che non ci siano atti di criminalità, oppure gente che sta male, soprattutto che lasciano pulito, ma questo purtroppo non avviene. Dal punto di vista dell'ordine pubblico non ci sono mai stati particolari problemi, ha spiegato il vice sindaco di Lecco, Francesca Bonacina, ma di certo non è un bel biglietto da visita per la città. È una zona di Lecco bellissima, dobbiamo pensare a un suo rilancio, dice. Nemmeno i venditori ambulanti, nonostante un bando con incentivi ad hoc, hanno voluto portare sul lungo fiume le loro bancarelle. A passare nel tratto, il motivo del rifiuto, sono ormai solo runner e ciclisti, meglio le piazze del centro. Per quanto riguarda l'edificio ex ImpDap, dove oggi trovano rifugio senza tetto, per ora nessun acquirente si è fatto avanti. L'Inps è in attesa di nuove indicazioni per la sua vendita.